Musica Nuova puntata di Maschettando, il debutto qui al Barabba di Casale Cortecerro dove si può bere del buonissimo vino, come vediamo alle nostre spalle con le etichette rigorosamente rosse perché io preferisco il rosso quindi voglio il rosso, non stiamo scherzando, dove si può anche mangiare a pranzo insomma vi invitiamo davvero a venire qui al Barabba di Casale Cortecerro, andiamo subito a presentarvi gli ospiti il debutto assoluto a Maschettando di tre persone Maurizio Realini che salutiamo, ciao Maurizio Buonasera a tutti Di Farouk Farioli che salutiamo Buonasera Il debutto assoluto di Dario Parachini che non abbiamo mai avuto il piacere di avere ospiti No, è la prima volta, effettivamente è la prima volta, buonasera a tutti Sento che la prima volta non si scordano mai Ok, dunque Farouk arrabbiato per la sconfitta, Parachini arrabbiato per la sconfitta Maurizio invece è contento per i suoi 30 punti che hanno consentito a Varese di battere la capolista Legnano E' contento anche Roberto Cedri che ha messo 8 punti segnati a referto 6 Importanti per il ritorno al successo della poliaposti barbosto mudosa Ciao Roberto Ciao a tutti, buonasera Ok, il microfono Parachini lo teniamo lì per bellezza No, lo tengo perché devo parlare io, chi è che deve parlare d'altro? Non capisco Ok, partiamo da Farouk E' contento Zane perché ti ho svelato prima che sei il giocatore preferito della Paffoni per il nostro regista Farouk Il mio primo tifoso Il tuo primo tifoso? Speriamo non sia l'unico Assolutamente, anche perché, iniziamo proprio da questo, al di là della sconfitta di Latina che poi esamineremo Nelle ultime settimane, negli ultimi due mesi, quello che dicevi adesso con una battuta però è cresciuto anche l'affetto o la stima di Eumenia nei confronti di Farouk Farioli Forse la piazza ha iniziato a conoscerti Ma diciamo che la situazione, tra virgolette, peggiore da scegliere all'inizio dell'anno era Omenia per un giocatore perché l'anno prima era stata una stagione fantastica c'è stato quello scivolone finale, però era stata una stagione perfetta tutti i giocatori, partite perse, penso quattro in campionato quindi c'è la città affezionatissima al gruppo di prima inserirsi in un contesto del genere è molto complicato già di suo, insomma arrivare e rimpiazzare i giocatori che hanno lasciato un ottimo ricordo è difficilissimo poi è successo quello che è successo, ci sono state tante difficoltà i risultati sono mancati all'inizio di conseguenza si diventa un po' nostalgici in questi casi fortunatamente adesso con l'innesto di Mariani, Metrevelli abbiamo trovato stiamo facendo un buon cammino quindi la speranza è quella di continuare cercare di conquistarsi fino in fondo il pubblico Tu hai detto, poi coinvolgiamo anche i nostri altri ospiti che i conti si fanno sempre alla fine nella tua intervista mi sembra dopo la partita casalinga vinta contro Matera era il terzo successo, poi ne sono arrivati altri due prima dello stop di domenica a Latina a testimonianza proprio anche della ritrovata o consapevolezza dei propri mezzi da parte della squadra Sì, un mio vecchio allenatore mi ha sempre detto che la lana si pesa a maggio quindi diciamo che noi vogliamo arrivare bene in quel periodo lì speriamo di essere tra le prime quattro per poi giocarci playoff Parchini, tu hai sempre detto quando magari a dicembre, a novembre le critiche erano tante insomma c'era un certo disfattismo quello che ha detto Fariore adesso è quello che diceva suo vecchio allenatore che i conti si fanno alla fine Sì, ma la sua disamina è stata perfetta poi loro sono arrivati dei giocatori di esperienza e credo che se rimangono a questi livelli a giocare vuol dire che non sono gli ultimi arrivati per cui è chiaro che magari devono anche gestirsi quindi io l'ho detto qua in trasmissione per cui non è che l'hai detto giustamente anche tu io l'avevo sempre sostenuto non mi sorprende poi è chiaro che i due innesti azzeccati hanno dato una mano però credo che la strada sarebbe stata comunque in discesa Maurizio, da esterno anche se tu hai vestito per tanti anni sei cresciuto con la Fugor Ma sai, l'importante è quando crei un gruppo forte che comunque vuol vincere è la costanza comunque loro sì, sono partiti tra virgolette male però se continui a lavorare mantenere l'intensità essersi sempre con la testa alla fine i risultati vengono l'unica cosa è rimanere concentrato è estrenarti da tutto dalle critiche andare avanti per la tua strada poi a maggio si vedrà Maurizio è un prodotto del settore giovanile della Fugor forse l'ultimo dopo Alessandro Bulini credo che possa essere considerato proprio Maurizio Rarini da tua esperienza hai viaggiato tanto sei stato soprattutto a Cecina due o tre anni se non ho baderrato la testimonianza che comunque anche da un settore giovanile piccolo come quello della Fugor possono comunque uscire giocatori pronti per categorie comunque importanti visto che c'è qua Farioli che ha girato l'Italia e poi prendiamo uno stimolo con Roberto ti chiedo quali sono le difficoltà per un giocatore quando va via di casa cioè nel senso che noi siamo qui abituati a vedere arrivare il giocatore a vedere arrivare Farioli Emanuele Rossi a vedere arrivare Bertolazzi a vedere arrivare tutti questi giocatori che poi vestono a Maia della Fugor o a Domodosso altri giocatori che arrivano da fuori come Petrica ti chiedo qual è la difficoltà per un giocatore quando va a trasferirsi in un'altra città in un altro contesto insomma non è così semplice specialmente per un giovane Maurizio Penso che la difficoltà maggiore sia quella di riuscire ad acquisire la fiducia delle persone che ha di fianco perché magari non conoscendole vorresti dare vorresti far vedere tutto quello che puoi dare però non è semplice se non sei nelle condizioni ideali di tranquillità e quindi penso che trovare il proprio ambiente ideale cioè nel senso aver fiducia delle persone che hai accanto Scommessa su 100 milioni di euro vediamo chi mi sta chiamando io scommetto che chiama come sempre la televisione vediamo un po' ma non si illumina ah no è mio fratello ok eh ok infatti qui gli mettiamo un bel rosso Roberto sei attratto da un'esperienza fuori Domo cioè nel senso comunque ti piacerebbe fare giocatore professionista? Io sono nato a Domo cresciuto a Domo cresciuto nel Domo Basket e ovviamente sentirsi chiamare da una squadra da fuori penso sia già una bella soddisfazione e attratto sì si può dire di sì mi piacerebbe fare nuove esperienze magari magari anche lontano da casa e adesso gioco senza pensieri in testa senza niente mi diverto e sperando in un futuro non vuol dire villa o crevo la dossola no no ma è più fuori a me te non ne ho in testa adesso non saprei dirti davvero perché non ho mai pensato in un futuro da giocatore professionista al di fuori dal contesto che è la mia città vedrò andando avanti piano piano Faruque invece tu hai girato l'Italia anche a livello familiare cioè non è facile ogni anno comunque trasloccare inserire i figli a scuola all'asilo no assolutamente è molto complicato e sono d'accordo con quello che si diceva prima la cosa più difficile per il giocatore cercare di ripagare tutta la fiducia che quando una società ti cerca ti dimostra per la famiglia del giocatore è inserirsi perché noi bene o male veniamo catapultati in un contesto che già conosciamo che è quello di uno spogliatore di una squadra di palacanesto mentre per magari una moglie o di figli è più complicato perché sono meno le possibilità di relazionarsi o comunque non vengono accolti come il giocatore quindi è un po' più complicato insomma Parachini sei stato accolto bene tu nella tua vita lavorativa nella tua vita affettiva io si è sempre accolto benissimo perché ho fatto a Rona qua quindi 35 km quindi va bene così perfetto dunque Faruk adesso torniamo sul campo questa sconfitta di Latina forse lo stop di quella settimana ha un po' farenato la vostra crescita che era per certi versi sembrava quasi inesorabile cioè il fatto che veniste da 5 vittorie consecutive ma inevitabilmente quando c'è una pausa cala la tensione per noi non è arrivata forse nel momento giusto perché eravamo eravamo in palla quindi sarebbe stato meglio giocare continuare a giocare è anche vero che abbiamo avuto la possibilità di recuperare degli infortuni quindi da un certo punto di vista ci serviva prima ne parlavo con i ragazzi dicendo che quando subisce 88 punti in trasferta poi dopo è pressoché impossibile vincere quindi direi che la chiave di lettura della sconfitta sta nella difesa insomma e sta anche in quel giocatore che quando vede il sangue diventa davvero implacabile ovviamente il riferimento è a mano del Carrizzo che è stato contenuto per 38 minuti e 10 secondi negli ultimi due minuti ha messo 12 punti con 5 su 5 dal campo guarda io con Manuel ho giocato due anni a Venezia lui è un giocatore incredibile è quel tipo di giocatore riesce a valorizzare i compagni intorno a lui magari per 35 minuti e quando è il momento di decidere la partita fa sua la palla e spesso e volentieri finisce finisce nella rettina lui è arrivato a stagione in corsa quando eravamo a Venezia noi eravamo 1-5 alla fine dell'anno siamo arrivati e abbiamo vinto il campionato ci ha dato tantissimo è un giocatore che se non fosse per i problemi fisici che ha avuto in Argentina a livello giovanile era considerato insieme a Ginobili uno dei prospetti più interessanti quindi stiamo parlando di un giocatore che se non fosse mi ripeto se non fosse per i problemi fisici che ha avuto non sarebbe sicuramente in questa categoria tra l'altro perdeste la quinta partita a Verbagna contro la Fulgure Dal Masson era in mi ricordo quella a Venezia se non vado errato quinta partita playoff no 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 quinta partita di campionato a Verbagna si diceva che Dal Masson rischiava la partita la panchina invece la società è stata brava ad aspettare una testimonianza che la pazienza a volte serve sì a noi serviva qualcosa in quel momento eravamo come tutte le squadre costruite per vincere che poi non ingranano non era un momento semplice la società ha operato dei cambi e col seno di poi sono stati poi i cambi giusti insomma poi dopo superato quel momento difficile siamo andati molto 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 bene se Maurizio ha vissuto forse l'anno più cioè uno degli anni più complicati della Fulgor targata Altea che adesso è il secondo sponsor però quella sconfitta proprio a Varese con meno 21 in gara 3 con tante critiche tanti mugugni in quell'anno la grande favorita eravate poi sul campo non avete saputo tradurre in realtà quelli che erano i sogni e gli obiettivi se non ricordo male sai non è sempre così semplice diciamo fare una squadra sulla carta e poi trasformare tutto sul campo purtroppo quell'anno è iniziato male è proseguito altrettanto con critiche giuste e via dicendo però sai non si può sempre vincere non puoi da lì era il secondo anno di B2 della società comunque non dico che fosse inesperta però è difficile fare il salto di categoria nei primi anni in Serie B che è sicuramente d'adattamento da lì poi è partita anche la carriera di Maurizio Lini all'estero tra virgolette cioè da forestiero quindi hai cominciato anche tu a girovagare per l'Italia quanto sei grato alla Fugo al direttore sportivo Michele Burlotto che ti hanno consentito di fare professionista cioè a tutti gli effetti sì certo più che altro mi hanno fatto crescere perché mi hanno preso una realtà che era quella di Gravellona di Ornavasso e mi hanno dato la possibilità di diventare un giocatore allenandomi e poi ho avuto la fortuna di di essere di crescere in annate in cui la pallacanestro nel nostro territorio comincia a prendere piede e quindi ho preso la palla al balzo ho sfruttato la cosa diciamo esiste la possibilità che in un futuro neanche meno troppo remoto Realini torni a vestire la casacca della Pafoni a tuo giudizio mi sa che non la devi fare a me questa domanda ti sentiresti comunque pronto io sì ho sempre stato ho sempre stato quindi la giriamo a Paracchini secondo te Realini può essere una risorsa per il futuro mi sembra io lo dicevo a lui che Gigi Balesto mi manda tutte i lunedì la pagina della prealpina perché giocano parecchi es giocatori di Arona per cui mi diverto a guardare come stanno andando ma vedo che vado ai 20 in su in una categoria che è appena sotto credo che non farebbe brutta figura neanche in una categoria sopra poi in parte l'ho visto crescere so che è un ragazzo su cui si può contare come serietà visto che abbiamo delle persone intelligenti oggi no salvo il croce salvo uno e lasciamo ai dosi telespettatori scegliere chi è questo salvo uno abbiamo qui Farioli abbiamo Maurizio abbiamo Paracchini abbiamo Roberto facciamo una situazione un po' diversa cioè nel senso che affrontiamo vari temi quello che sta emergendo in questi giorni in queste settimane è anche la crisi di tante società no? dalla uno alla due insomma Faru che è stato a Forlì sappiamo che c'è la crisi a Forlina uno Caserta Montegranaro Biella che ha annunciato a fine anno addirittura la probabile chiusura insomma un panorama a tinte davvero molto molto fosche io ti chiedo Paracca perché è così come si può cambiare questa situazione intanto non sono solo scemo che lascia acceso il telefonino qualcun altro ha lasciato acceso il telefonino sei tu Faruque? il mio è qua spento ok Paracchini non è ok Maurizio e Roberto non è quindi se il mio è là e non suona ci deve essere qualcun altro che prima mi ha fatto così quando suonava il telefonino qualcun altro ha il telefonino acceso vai Paracca poi chiamiamo gli altri ospiti su questo argomento è una crisi che secondo me non è facile cioè voglio dire purtroppo non è la crisi solo del basket insomma credo che non so io per lavoro ho a che fare con gente che appunto ha magari imprese e tutto in questo momento qua davvero speriamo si sia toccato il fondo perché se non è così diventa ancora più difficile quindi purtroppo non è una crisi solo dello sport diciamo che lo sport ha vissuto troppi anni non investendo in quello che oggi potrebbe essere poi la soluzione del problema cioè nell'avere giovani in grado poi di giocare in certe categorie quindi le attività giovanili venivano fatte per la maggior parte dei casi abbastanza male ci sono regole dove è più conveniente prendere un ragazzo che viene dalla Repubblica Ceca o dalla Slovacchia e fargli fare le giovanili qua perché è più conveniente quindi qualcosa da cambiare c'è come in tutte le cose ripeto purtroppo non solo nel basket poi c'è abbastanza un immobilismo cioè nessuno in grado di prendere delle decisioni magari anche impopolari ma che poi nel tempo possono cambiare questo andamento Farouk sono assolutamente d'accordo aggiungo che in questo momento di difficoltà economica bisognerebbe tagliare anche tante spese e quindi cercare prodotti locali giocatori del posto quindi ben venga anche si lega molto al discorso di prima secondo me una società intelligente in questo momento cerca di dare tagli di crescere in casa propria dovrebbe perlomeno cercare di crescere in casa propria giocatori e allenatori che possono servire al proprio movimento Maurizio e Roberto si si tutto tutto vero concordo con tutto quindi essere ripetitivi te la sei cavata Roberto anch'io concordo con con gli altri molto più esperti di me come qui potremmo mettere un muro di berlino in effetti no? parte senior della trasmissione Maurizio metà e metà e poi la parte la parte la parte under Faruk la sconfitta di Latina cambia programmi? a mio modo di vedere assolutamente no l'obiettivo concreto poi giro veloce ti giudizi su quello che dico è davvero arrivare nelle prime quattro io guardando anche il calendario di Matera un pensierino a raggiungere Matera lo farei ma è importante dar continuità all'ultimo mese questo è importante perché solo dai risultati poi si trova la fiducia e si può pensare a qualcosa di più in questo momento siamo ancora tra virgolette molto fragili per tutto quello che secondo me ci è successo tutto quello che abbiamo passato avevamo iniziato a costruire una mentalità che poi è quella che ti fa fare la differenza quando conta e siamo ancora abbastanza labili secondo me da questo punto di vista quindi ancora prima dei risultati è importante continuare a costruire quella mentalità che ci ha fatto far bene nell'ultimo mese lasciando stare l'ultima partita però continuare a costruire quella mentalità vincente quindi difesa atteggiamento aggressivo e naturalmente tutto questo deve essere coadjuvato dai risultati Faracca ma sì sai che non sono un espertissimo ma mi sembra che Omegna è a due punti dalla quarto posto con due partiti diciamo in meno da giocare per cui io credo che potenzialmente è terza ecco potenzialmente è terza e mi sembra siccome le giucchio in giro che è anche abbastanza temuta anche da da chi oggi è davanti quindi ha ragione lui è chiaro che la strada è ancora lunga perché se ci si siede su quattro risultati di fila ottimi si può poi fare magari una una brutta partita quindi se riprendono sicuramente possono fare quello che è al contrario dell'anno scorso fare una sorpresa alla fine e invece l'anno scorso era andata male alla fine Maurizio ma io mantengo la mia linea di pensiero che come magari non pensavano alla classifica a inizio campionato che erano nella parte bassa devono continuare a pensare partita per partita e arrivare più pronti possibile quando alla fine è il campionato invece voi due cioè la BC Varese a questo punto è terza se non va derrato in quarta in classifica qual è l'obiettivo? diciamo che erano partiti per salvarci però con Realini non si può partire solo per salvarsi l'obiettivo adesso diciamo non ci siamo posto sarebbero stati i playoff però vediamo ci stiamo divertendo è un gruppo super e quindi gli obiettivi verranno non so quale sarà però ce li riponiamo volta per volta invece Roberto voi avete ottenuto una vittoria fondamentale dando anche un calcio non alla crisi perché insomma parlare di crisi con tre sconfitte in quattro giornate era un po' eccessivo però leggendo anche il play to play guardando analizzando la partita nel suo insieme siete stati bravi a reagire due volte sotto 15 nel primo quarto sotto 15 nel terzo quarto avete reagito nonostante le condizioni fisiche non ottimali nonostante qualche assenza a noi mancava Simone Cerutti e siamo stati bravi con Costanza appunto durante il primo quarto che siamo andati sotto di 15 e non abbiamo mai mollato anche perché ci tenevamo davvero a prendere questa vittoria siamo stati veramente una squadra da inizio anno ho visto veramente un gruppo veramente unito che non che ha sempre abbassato la testa si è impegnata fin dai primi minuti subito con grinta siamo entrati al terzo quarto di solito se partiamo abbastanza male invece siamo partiti subito con attenzione coraggio nelle proprie scelte sono proprio contento oltre che di aver giocato perché vabbè però abbiamo veramente meritato la vittoria la volevamo volevamo toglierci questa scimmia le critiche che ci eravano seduti non è come è stato non ci siamo mai seduti e appunto con i problemi fisici ci siamo lasciati un po' trascinare è andata molto molto bene Roberto forse l'essere partito troppo bene lo dicevamo anche con Fabrizio la scorsa settimana ha portato ad alzare l'asticella come direbbe il buon mio amico Dario Paracchini e poi quando sono arrivati alle sconfitte paradossalmente è stato un po' un boomer di aver vinto troppo all'inizio è vero o no? soprattutto perché la gente si aspetta che continui su quella strada continui a far bene continui a vincere e quando non si è abituati a perdere non noi perché alla fine abbiamo già perso tutto magari chi ci guarda da fuori è abituato a vederci sempre sorridere quando arriva il momento difficile iniziano a mollare iniziano a subito partono le prime critiche si siedono ormai ne hanno vinte due di fila e allora pensano ma non è così questo appunto fa parte del gioco e non devi mai abbassare la testa allenati 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 Paracchini su questa asticella hai dato il caffè su questa asticella cosa ne pensi tu? allora tu a tutte le trasmissioni mi vuoi far fare come dire la nota polemica che è uno dei problemi che si diceva prima cioè che ogni volta che una società con coscienza dichiara degli obiettivi e poi se quegli obiettivi lì durante l'anno sono come dici tu migliorati ci si aspetta sempre tanto e poi non si ha magari pazienza di fare un progetto che può durare più anni e che se deve durare più anni nei primi anni invece magari può portare a qualche delusione o a qualche difficoltà quindi lo trovo semplicemente assurdo quindi però ripeto è uno dei problemi per cui nel basket si fa tanta fatica ma anche qui purtroppo non solo nel basket mi sembra che in tutti gli altri sport ma anche a livelli molto diciamo dilettantistici non si ha quasi mai pazienza per cui se guardo nel calcio guardo comunque nella pallavolo anche femminile ultimamente se due risultati bastano per cambiare allenatore per cambiare ragazzi qua e qui e poi non si può costruire niente le squadre come Siena per fare l'esempio nel basket sono state costruite facendo un progetto dicendo l'allenatore è questo per cinque anni il progetto è questo non si è mai deviato anche nei momenti in cui le cose non andavano bene e poi i risultati ci sono stati se uno giudica da due partite lui era il più contestato almeno io leggevo giocatore di Omenia e io sono convinto che poi a fine dell'anno tutti saranno contenti di come ha giocato per cui uno magari se si mordesse la lingua o facesse delle riflessioni o pensasse che comunque una persona in campo dà sempre tutto comunque forse il basket farebbe dei passi avanti sono stato polemico e lungo chiudo no aspetta un attimo no sì sì prima di far rispondere Farouk chiedo lo votereste come presidente del CONI assolutamente sì ah è stato preciso schietto magari dai magari Maurizio mi sono perso un po' via però diciamo di sì dai Farouk come presidente o in risposta alla domanda di prima mi sembra che i temi che abbiamo affrontato oggi abbiamo un punto di vista comune si è parlato di lavorare sul territorio di settore giovanile si è parlato di programmazione che sono effettivamente le cose che mancano nella palacanestro dove mi leggo la domanda che stai facendo tu spesso e volentieri è così si si comincia un progetto e in base ai risultati magari si ha troppa fretta o ci si fa prendere la mano delle cose se vanno bene o si ha troppo fretta di cambiare appena ci sono due risultati negativi sono le questioni forse più delicate da affrontare per una società cercare di far capire qual è se c'è un obiettivo a lunga durata cercare di farlo capire alla piazza prima di darci il punto sul campionato una domanda un uccellino mi ha detto che ti hanno fatto a proposito di critica a proposito di mugugni tanto piacere invece i cori a Firenze l'uccellino aveva ragione ma certo io non nascondo che all'inizio dell'anno sia stato per me difficile il momento qui a Domenia secondo me per tutto quello che si era creato era un contesto molto difficile nel quale giocare però insomma adesso che stanno arrivando i risultati sono contento sono contento che ci sia un po' stia cominciando a esserci anche un po' di feeling con la città insomma quindi sono enormemente contento come tutte le persone a tutti i giocatori tutte le persone fanno piacere insomma complimenti e le critiche comunque pesano è inutile negarlo mi riallaccio a quello che avevo detto prima perché io ripeto spesso il giornalista ma anche il tabaccaio il panettiere non si rende conto che comunque Farioli è qui da solo tra virgolette Marialini quando era a Cecina era da solo cioè non è che vivono nella loro città con i loro amici quindi è davvero complicato avere un ambiente freddo o comunque avvertire qualche critica o qualche cioè non la fiducia ma questo voglio dire specialmente ripeto quando sei a tanti chilometri da casa non con i tuoi effetti con i tuoi amici sì però ecco forse la cosa che un po' mi ha colpito effettivamente io sono un giocatore particolare cioè non sempre si riesce a vedere quello che faccio sul campo magari può essere apprezzato quello che faccio sul campo ci sono giocatori più spettacolari ci sono giocatori che sono più realizzatori ecco io cerco di dare a volte un contributo che sono sempre stato considerato o mi considero un giocatore di fatica di cuore e non sempre magari questo viene visto o apprezzato insomma ecco tutto qua perfetto ci vediamo il punto sul campionato Torino non perde un colpo anche contro Bari la squadra di Pillastrini risolve la contesa nel finale grazie ad un canestro di Tommasini termina 75-74 per i giallo-blu sempre più in testa alla classifica Matera rischia di cadere in casa contro Mirandola una magia di Vico e gli errori arbitrari penalizzano gli emiliani sconfitti al supplementare per 91-87 colpo di Agrigento che passa a Chieti per 90-83 e si rilancia in chiave play-off mentre gli abruzzesi sono in evidente calo termina il digiuno di Vittoria di Perugia che approfitta delle assenze di Ferrarese e Perego e supera 79-76 Treviglio bene la Sigeco casal Pusterlengo che viola il parquet di Ferrara con un grande marino per 79-71 altro successo esterno è quello di Luca che grazie alla solita superprova di parente ha la miglio per 72-67 su San Severo Mentre Zane fa le panoramiche del Barabba qui a Casale Cortecerro abbiamo visto il punto del campionato un flash con tutte e due poi penso settimana prossima comunque tra due avremo ospite Franco Prelazzi di questa Castelletto che non lo so sta vivendo un momento forse paragonabile a quello della Paffone inizio anno cioè nelle ultime nove partite sei sconfitte abbastanza netta quella di Firenze perché comunque era sotto 20 non è un momento facile qualche critica adesso anche nemmeno tanto velata a Garelli per la gestione del gruppo dei giocatori Paracchini ride perché qualche cosa dai togitelo sto sassolino dai no rientriamo nel discorso di prima cioè bisogna capire se non aveva fatto troppo secondo quanto è forte sulla carta prima se sta facendo meno di quanto può fare magari c'è una via di mezzo però insomma non mi sembra che Castelletto fosse costruita anche qui quest'anno per vincere il campionato quindi è comunque quarta sta facendo un ottimo campionato erano in pochi paradossalmente diciamo che l'aggiunta di un giocatore non sto giudicando il giocatore in sé non ha portato forse questi questi benefici che tutti si aspettavano credo che però i giocatori abbiano tirato la carretta per tanto tempo giocando in 5 barra 6 ci può stare un periodo di flessione poi ripeto secondo me per arrivare a livelli di Torino e in questo momento forse anche di Omegna manca ancora qualche cosa se anche questo è voler come dire sputare su una cosa che invece è stata fatta secondo me con giudizio perché si veniva da anni difficili e si è creata una squadra competitiva cercando anche di guardare il bilancio competitiva però ripeto secondo me gli manca ancora qualcosa per arrivare a livello delle più delle più forti per cui Farouk Castelletto è costruita a mio avviso molto bene è corta ha avuto ha fatto un giro in andata buonissimo in questo momento con l'assenza di passi ha cercato di tamponare con 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 rimane in questo momento una squadra un po' corta e che ha fatto secondo me qualcosina in più rispetto a quelli che tutti si aspettavano quindi complimenti a Grelli che è riuscito a fare un ottimo lavoro con quello che ha insomma è vero però io non sono d'accordissimo con voi perché comunque una squadra che ha Pazzi che ha vinto il campionato sul suo anno Ideioa che ha vinto il campionato l'anno scorso Bolzonella che è stato grande giocatore lo è tuttora ha giocato in A1 a Cantù e Varese Simoncelli che era titolare in A2 insomma sul fatto che non fosse competitiva per le prime quattro piazze non è che è stata una sorpresa secondo me Castelletto a inizio anno no una sorpresa no è leggermente magari corta gli è cambiato gli manca forse un cambio dei lunghi di affidabilità perché con Damiani nel momento in cui non c'è stato Pazzi hanno avuto una flessione per il resto sugli esterni costruita bene non riescono secondo me a sopperire in questo momento a un'assenza di un giocatore perché un giocatore che non hai citato è Sanghetti anche lui secondo me è un giocatore perfetto che si sposa benissimo sia con Bolzonella che con Simoncelli però anche solo la mancanza di un giocatore rischia di inceppare quel meccanismo perfetto che secondo me è stato una generale andata quindi è leggermente corta dal mio punto di vista per arrivare in fondo poi se arrivi nei playoff dove tutti stanno bene e in un momento di forma perfetto se la può giocare e l'ha dimostrato perché può vincere e giocarsela con tutti Maurizio le quattro dei playoff chi saranno e poi anche Roberto ma non mi lascio andare le pronostici una Torino puoi farlo infatti è facile le altre guardando dando un'occhiata così al campionato sono tutte squadre comunque forti ed è parecchio difficile a fare anche perché non so fino all'ottava in quanti punti sono in quattro punti mi sembra la nonna sì 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 quindi è dura è dura è stilare adesso la classifica Roberto provaci non dico solo che si spera che le squadre del nostro territorio arrivino più in alto possibile e quindi si spera anche che arrivi ai playoff come a Paffoni come noi si spera io vedo tre piedmontesi ai playoff poi mi sbaglierò cioè nel senso Torino ovviamente a Paffoni secondo me arriva ai playoff e ci arriva in una posizione molto molto interessante la squadra che vedo in crescita può dare fastidio poi ci vediamo il punto del giovanile a mio modo di vedere è Casapusterlingo che ha vinto tre delle ultime quattro partite si fa rook insomma può dare fastidio è una squadra che ha dei giovani che possono stare in campo è più lunga rispetto ad altre ha già fatto due turni di riposo quindi attenzione Casapusterlingo secondo me ma sì ce ne sono tante di squadre anche Treviglio domenica ha perso ma ha giocato senza Perigo e senza Ferrarese è veramente difficile a parte Torino che è al di sopra ha dimostrato in questo momento di essere al di sopra di tutte le altre è un campionato duro un campionato duro dove anche l'ultima in classifica fino a poco tempo fa Latina pur di non staccarsi dal sogno Silver ha investito su due giocatori di Serie A quindi non è escluso che ci siano cambiamenti anche in altre squadre è difficile sarebbe bello sicuramente che ci fossero tre Piemontesi con un derby da vivere insomma se c'è il derby io cambio città in quel periodo perché insomma all'impressione non sarebbe facilmente gestibile il derby no però alla fine la paracanestra è fatta di emozioni quindi a volte di gioia a volte di delusioni ma io penso che quando la domenica una persona vada al palasport vada in cerca comunque di emozioni quindi benvengano Farouk vuole il derby ai playoff a paracca sarebbero felici tutti i cassieri delle due squadre poi mi sembra che poi derby vuol dire solo con Castelletto o anche con Torino una domanda perché questo l'ha detto lui quindi non lo so mi sembra comunque ha ragione ci sono una serie di squadre non penso che chi arriverà a quinta dovrà essere deluso perché davvero sono tutte squadre forti e notavo anche la classifica di Domo anche nel loro campionato sono lì tutti a due o quattro punti per cui anche nel vostro veramente c'è un equilibrio assoluto tra l'altro per esempio sono due che si sono staccate un pochettino però adesso ha perso perché Domenica Mortara ha perso in casa contro questa Bra che vi aveva dato 30 punti insomma anche la sconfitta enorme nelle proporzioni viene un po' rivalutata alla luce del fatto che comunque Bra la settimana dopo è andato a vincere sul campo della prima della classe sì tra noi e Bra non ci sono assolutamente 30 punti però siamo andati giù boh problemi fisici però magari con la testa sbagliata appunto poi purtroppo per fortuna Bra ha battuto Mortara che è prima a 32 poi subito ho detto c'è Pavia e poi noi adesso siamo a 22 poi siamo veramente un gruppo tutto attaccato da 20 22 anche Gazzada adesso si fa sotto Desio ha 27 di fila e siamo tutti attaccati e quindi sarà una bella bella lotta sarà una bella andiamo a darci punto dei giovanili di Domo e di Omegna e poi lanciamo quello di Arona con due parole di Paracchini perché ha detto che in caso di vittoria la settimana prossima di Arona che torna a successo in casa gioca sabato mi sembra Arona della prima squadra no andiamo a Ciriè a prendere quattro pazzate io volevo dire che in caso di vittoria saremmo tornati qui i commensali ospiti di Paracchini noi giochiamo per vincere però è una diretta concorrente e allora in caso di vittoria fai questo voto noi cinque torniamo qui a Barabba a farci la cena volentieri lo diciamo anche a proprietario dunque andiamo a vederci punti di del giovanile è iniziata la seconda fase Under 19 Elite e i Rosso Verdi hanno giocato due partite tirate fino all'ultimo secondo prima è arrivata una sconfitta a Carmagnola 61-57 e poi la vittoria a Casalinga su Pio Sasco 77-76 prossimo impegno martedì prossimo al Palabagnella contro Custorino vittoria di un punto anche per l'Under 17 Elite che batte Novara 56-55 con un canestro a una manciata di secondi dalla fine e ora si prepara la trasferta sul campo della capolista Rivarolo che all'andata a Bagnella ha subito la sua unica sconfitta stagionale chiude la prima fase con una sconfitta sul campo di Moncalieri l'Under 15 eccellenza che nonostante il risultato 82-59 disputa una partita positiva ora una settimana di riposo prima del girone finale per il settimo decimo posto dove affronterà Biella Savigliano e Pio Sasco l'Under 14 Elite inizia con una sconfitta al girone top con il 62-59 subito a Collegno ora i nostri ragazzi attendono Venaria perde invece a Trevero l'Under 14 regionale 109-53 tempi di spareggi per l'Under 13 Elite che viene sconfitta in casa da Custorino per 74-80 e giovedì in trasferta proverà a ribaltare la situazione per entrare nel girone top infine vince l'Under 13 regionale a Borgomanero per 33-40 fine settimana non troppo dissimile da quelli visti fin qui per il Rosmini Basket che scende in campo per tre partite casalinghe nel giro di 24 ore i primi sono stati gli under 17 di coach Bassi impegnati contro Biella dopo aver ben figurato contro l'altra prima della classe Arona non è andata bene come era successo il turno precedente quando nonostante il passivo pesante il buon gioco e le buone idee si erano comunque visti questo giro no l'approccio è stato poco aggressivo e Biella ha fatto valere la propria superiorità finale 34-98 per gli ospiti e i domesi che si preparano per il derby con Verbagna poi è stato il turno degli under 15 che come sempre ormai se la sono giocata fino alla fine contro Casale il primo tempo è stato buono per i domesi specie nella fase difensiva dove con il pressing a tutto campo hanno recuperato diversi palloni nella seconda metà però non va meglio per i padroni di casa che calano la loro intensità ed attenzione l'ultimo assalto domese non va fino in fondo e incassa la sconfitta per 39-43 infine rende meno duro il parziale di giornata l'under 14 di coach Vidili autentici padroni in campo fanno il bello e il cattivo tempo contro Borgosesia che non ha gli strumenti per contenere i bianco-blu a metà gara sono più 18 e nel giro di un quarto arrivano sul più 48 la partita si chiude con la vittoria facile di 85-32 domo abbiamo visto i punti giovanili di mi viene da ridere perché sto leggendo una frase su facebook di un giocatore dell'under 19 della della Paffoni che non possiamo dirla però io loro l'hanno vista io non diciamo la frase obietto su quella frase Roberto conosco il personaggio che ci ha giocato conto parecchie volte a queste esplua gli piace essere abbastanza al centro dell'attenzione è particolare potevo aspettare una frase del genere io sono contrario tu? no contrarissimo Maurizio? ma dipende dalla materia prima dipende dalla materia prima Farouk è quantomeno opinabile io ormai sono fuori da questi giri ragazzi quest'anno sono 50 quindi facciamo una cosa oggi Farouk cioè domani all'allenamento fai fare a Fabio 50 piegamenti da parte nostra per la frase che ha scritto va bene? va bene non mancherò quindi voglio vedere questi 50 piegamenti di Fabio Larossi che salutiamo bisogna cominciare a vincere Paracca perché tra un po' vediamo il tuo punto sì anche se noi diciamo che settimana prossima l'incontro clou è quello di under 19 contro Cantù perché sono le due squadre che stanno lottando per l'ultimo posto per passare all'interzona loro li abbiamo battuti là e sono dietro due punti da noi per cui se noi lunedì li battiamo andiamo a più 4 con gli scontri diretti a favore direi che abbiamo fatto proprio un buon passo per arrivare per tenere questo sesto posto che ripeto è l'ultimo che ci permette di andare all'interzona sarebbe per noi un risultato anche qua nel piccolo davvero molto bello abbiamo battuto Varese battere Cantù lottare contro Milano e contro Casal Pusterlengo è senz'altro una cosa che ci fa piacere ci fa onore quindi un importante sabato abbiamo uno scontro l'ho detto prima abbastanza diretto per la salvezza e per i play out però lunedì è davvero una cosa molto importante ti chiedo di alzarti un secondo continuo a suonare il telefono del nostro Zane fai questa domanda facciamo anche rispondere la scorsa settimana c'era il commercialista che gli comunicava il pagamento delle tasse quanto doveva pagare la domanda la domanda è ma queste tasse le ha pagate o non le ha pagate perché se continuo a suonare il telefono mi sa che è il suo commercialista le hai pagate o non le hai pagate queste tasse non l'ha sentito ok ha pagato le tasse aveva anche un sì nervoso è vero dunque vediamo il punto di Arona e poi chiudiamo continuano sconfitte ed assenze per l'Arona Basket in serie C infatti nella sconfitta a Chivasso 76 e 56 mancavano ancora Minoli Marini Carone e da 7 minuti dalla fine Hidalgo per infortunio ovviamente non si possono giustificare tante sconfitte con le assenze ma segnaliamo che su 23 giornate di campionato finora giocate solo 4 volte Arona è riuscita a schierare tutti i giocatori a sua disposizione notizia positiva l'esordio con canestro di Luca Pedrazzani classe 97 dal settore giovanile notizie alterne vince l'Under 19 eccellenza nel recupero in casa contro la Robur Varese col punteggio di 63 a 56 al termine di una partita non brillante ma condotta dall'inizio alla fine con questa vittoria Arona mantiene il sesto posto in classifica perde invece l'Under 19 elita settimo nella seconda partita della seconda fase una vittoria e una sconfitta per adesso nel girone chiude in battuta la prima fase l'Under 15 eccellenza di coach Bruno che vince 90 a 85 contro la Crocetta nonostante le assenze per infortunio di Enmini Fornare Galoppo da sottolineare i 35 punti di Ferreri e i 31 di Giovanni Cesani perde invece una partita importante l'Under 17 eccellenza sconfitta tra le muramiche dal Custorino col punteggio di 80-90 perde anche l'Under 14 elite di coach Bertalli nella prima partita della seconda fase contro Vercelli col punteggio di 81-87 non una prestazione maiuscola dei giovanissimi vichinghi troppo lenti in attacco e permissivi in difesa a riposo ancora per questa settimana l'Under 13 elite vince invece l'Under 13 regionale di coach Lucchi che si impone in casa contro il college basket facilmente col punteggio di 62-31 dunque ci siamo visti il punto di Arona mentre Paracchini e Farouk discutono amabilmente di giovani di prospettive future insomma complimenti ultima domanda per tutti domo domenica sconto diretto 6 sabato alle 21 neve permettendo a Desio una partita complicata no Roby? complicata difficile soprattutto perché loro sono sulla cresta dell'onda perché fai la settima vittoria consecutiva noi si va giù si combatte come sempre sperando in bene sperando di tornare a casa col sorriso anche perché in casa ci avevamo vinto quindi speriamo nel secondo sconto diretto a favore speriamo di vincere Mauri noi andiamo a Riva del Garda e adesso inizia la parte finale della stagione dove abbiamo dovremo partire tra virgolette più alla nostra portata ci giocheremo un po' di scontri diretti e vediamo un po' che belle le trasferte di Riva del Garda quando quando si andava grandi ricordi a Riva del Garda a Colombar al ristorante colombina non mi ricordo come si chiamava si mangiava da dio vabbè di aggressione Farouk in casa con San Severo bisogna dimenticare quella bella partita di di della andata niente dobbiamo vincere per riprendere quello che stavamo facendo prima quella piccola pausa un ufficio io credo diciamo che se avessi una doppia da giocare non la gioco su sto risultato assolutamente Paracca ci hai detto che vai a Cirie facciamo come sempre dai sai già cosa devi fare buon basket a tutti sperando che la previsione della neve siano ancora sbagliate perché sennò girare per il Piemonte sarà dura buon basket a tutti per il fine settimana ci vediamo qui se vinci ci vediamo qua a cena se vinciamo a Cirie bravo lo abbiamo letteralmente strappato da un allenamento della sua squadra di giovani è stata una delle bandiere del basket locale soprattutto verbanese perché a verbanese ha giocato dal settore giovanile fino alla prima squadra il protagonista del nostro appuntamento con quelli del basket la storia della nostra pallacanestro è con Cesare Cece Baldini allora la mia carriera da giocatore è iniziata abbastanza tardi nel senso che io primo campionato giovanile l'ho effettuato quando avevo 15 anni quindi categoria cadetti nel Verbania quella che era allora la Verbania Basca che era l'unica società di Verbania ho proseguito sempre l'attività giovanile nel Verbania dopodiché mi sono spostato per motivi di studio a Perugia dove ho giocato per tre anni nella mia categoria era la promozione ai tempi quando sono tornato a Verbania ho giocato un anno a Omenia in serie D di nuovo a Verbania promozione serie D poi diversi anni di serie D sempre a Verbania sono sempre rimasto in zona quando ho giocato diciamo che il gruppo più forte con cui ho giocato secondo me è stato il gruppo che ha vinto il campionato all'Ors che è mai Unioras che è l'attuale Under 19 ha vinto il campionato provinciale poi è andato a giocare contro la zona di Varese dove chiaramente ha dovuto soccombere perché ci troviamo di fronte delle squadre giovanili che erano delle società di serie A era un gruppo molto affiatato nel quale giocava Titonsi Lorenzini Zanellato io e mio fratello insomma era un gruppo molto affiatato che aveva come caratteristica la grinta e la velocità del suo gioco questo gruppo poi ha proseguito anche poi nel campionato di promozione nel campionato di serie D più o meno diciamo che il nucleo si è mantenuto per diversi anni in questo gruppo giocavamo sia io che mio fratello in due ruoli diversi per chi ci conosce sa che siamo gemelli quindi lui è stato un po' penalizzato nella sua carriera dal fatto di giocare in un ruolo che non era adatto al suo fisico nel senso che lui giocava a pivot avendo una statura come me di 1,87 m quindi chiaramente ha dovuto imparare e destreggiarsi contro giocatori molto più alti di lui io ho giocato in un ruolo che per me era più congeniale quindi forse sono riuscito a fare qualcosa di meglio in questo senso giocando a Verbagna l'allenatore di riferimento per me è stato Emilio Gabutti io con lui ho iniziato i primi passi l'ho sempre avuto anche nell'anno in cui ho giocato Megna è stato il mio allenatore di riferimento chiaramente è quello con cui ho portato avanti tutta la mia carriera di giocatore sostanzialmente tranne poi la pausa del periodo di studi questo è stato per me il riferimento più grande allora di Cece ricordo la sua cattiveria agonistica che contrasta invece con la sua eccessiva bontà maternità come allenatore non a caso lui si è specializzato nel minibasket dove queste caratteristiche sono importanti ma proprio è una dicotomia mi viene da dire pazzesca perché così come era un warrior diciamo così in campo è uno tranquillo e materno direi così come allenatore come istruttore di minibasket quando da giocatore i ricordi diciamo di battagli più combattuti sono state sicuramente contro Domodossola quando facciamo i campionati di promozione erano dei derby molto infuocati e molto combattuti diciamo che alla fine li abbiamo quasi sempre spuntati a noi di Verbagna diciamo nei risultati finali quando giocavo in Serie D un rivale piuttosto ostico a parte i derby poi quando giocavo Verbagna con Omegna nel rivale piuttosto ostico era Ivrea Ivrea era una squadra che era piuttosto difficile da affrontare ci creava spesso dei problemi e spesso diciamo che si andava un po' oltre quello che era il semplice intervento agonistico diciamo qualcosa un po' al di fuori ecco ma in questo momento ci sono un po' di ragazzi che stanno crescendo ecco con le squadre giovanili e anche con il mini basket ci sono dei gruppi soprattutto il gruppo del 1999 che mette insieme ragazzi di Omegna Verbagna Gravellona e anche il gruppo del 2000 che possono sicuramente fare bene anche se la caratteristica dei giocatori di queste zone è comunque la scarsa altezza siamo mediamente assieme un pochino più piccoli delle squadre avversarie grazie a tutti I told you This is how we go